La candidatura di Tondo non convince gli alleati, Lega pronta a chiedere un passo indietro, a Udine Forza Italia dà l'ok per Fontanini sindaco. La politica è sorda alle richieste degli artigiani, due mondi lontani, dice il presidente di Confartigianato Merletti a Fagagna per la festa annuale. L'ite trabraccianti in un'azienda di Pozzuolo, un rumeno midaccia con un ascia un connazionale che si mette in salvo nella cabina di un trattore. Dopo cinque vittorie di fila, cinque sconfitte per l'udinese che dovrà sfruttare la sosta per ritrovarsi. C'è riuscito il Pordenone, 2-0 sulla fermana, vince anche la GSA. Buonasera, dalla redazione di Udinews la partita per l'individuazione di un candidato del centrodestra. Tra le prossime elezioni regionali non si è ancora chiusa. La candidatura di Renzo Tondo non convince infatti tutti gli alleati, in particolare della Lega, ed è attesa per la visita domani in regione delle leader del Calroccio Salvini, che potrebbe chiedere a Tondo di compiere un passo indietro. Sentiamo il primo servizio di Francesca Santoro. Non c'è pace per il centrodestra in vista delle regionali. La candidatura di Renzo Tondo divide e sorriscalda gli animi, tanto che da più parti si auspica un suo passo indietro. A cominciare dalla Lega, i cui esponenti stanno imperversando sui social, facendo notare come debba essere rispettata la volontà dei cittadini, emersa dal voto del 4 marzo, e come il candidato per garantire il rinnovamento richiesto gran voce debba essere Massimiliano Fedriga. Un mal di pancia che ha spinto i vertici del partito a riunirsi nel quartier generale di Reana, dove peraltro domani è atteso alle 17 il leader Matteo Salvini, prima del bagno di folla al Palamostra alle 19. La patata bollente passerà quindi proprio a lui, che dovrà decidere se ascoltare i suoi e rimettere tutto in discussione, o se adottare una linea più diplomatica per non urtare i già delicati equilibri con Silvio Berlusconi. E se Fratelli d'Italia, tramite il neoeletto senatore Luca Ciriani, dichiara finita la pazienza, da parte sua anche il progetto FVG, insieme a Regione Speciale, chiede che Tondo faccia un passo indietro, ribadendo il proprio sostegno a Fedriga. Tutt'altro che entusiasta della candidatura a governatore, pare anche il diretto interessato. Tondo, infatti, nelle prime interviste rilasciate dopo la sua investitura, ha rimarcato come siano stati gli altri insistere per la sua candidatura e si rivela possibilista su un eventuale passo indietro. E anche all'interno del centro-sinistra ci sono ancora dei nodi da sciogliere, in particolare per quanto riguarda la posizione di MDP. Il coordinatore regionale, Carlo Pegorer, scrive oggi in una nota ho ritenuto di proporre la non partecipazione ufficiale di MDP alla costituzione di una lista elettorale con Open FVG, che avrebbe significato mettere in crisi in Friuli Venezia Giulia e non solo il processo di costruzione di liberi e uguali. Di conseguenza, ha aggiunto Pegorer, ogni iniziativa che verrà assunta da singoli o gruppi di iscritti ad MDP non impegna né tantomeno rappresenta il movimento. Intanto ieri c'è stata l'Assemblea regionale del Partito Democratico che è stata anche l'occasione per approvare le liste dei candidati alle regionali. Sergio Bolzonello è l'unico a poter dare solidità al Friuli Venezia Giulia, questo è il messaggio che è uscito dall'Assemblea del PD e noi abbiamo colto l'occasione per chiedere allo stesso Bolzonello un commento sulla candidatura di Renzo Tondo. Sentiamo. Io ho grande rispetto di Renzo Tondo da sempre non posso dire che siamo amici ma insomma siamo persone che ci rispettiamo e che hanno a cuore sicuramente la nostra regione per cui sarà una campagna elettorale importante, difficile ma sui contenuti, sulle cose io non ho da sempre per mia proprio costituzione abbiuro l'insulto, i momenti duri legati proprio alla volgarità anche di alcune campagne elettorali. Penso che ci sia necessità di confronto, di parlare delle cose vere, delle cose che vanno fatte, di come vanno fatte e di dare risposte ai cittadini. Oggi l'Assemblea regionale del PD siete pronti al rush finale? Sì sì assolutamente sì, ormai sono pronte tutte le liste, sono pronta la coalizione, devo dire la verità sono molto molto soddisfatto e adesso ci apprestiamo al giudizio degli elettori dopo una campagna elettorale che ripeto per quanto mi riguarda sa solo sui contenuti e non sulla mistificazione delle cose o sugli insulti rispetto agli avversari. Stiamo ultimando il percorso verso le elezioni del 29 aprile rispetto alle confusioni che ci sono nel centro-destra il PD con il candidato Sergio Bolzonello ha costruito una coalizione ampia e plurale oggi licenzieremo le liste dei candidati del PD in tutte le circoscrizioni e avvieremo così il percorso di vera e propria campagna elettorale. E per il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Alessandro Fraleoni Morgera Tondo e Bolzonello rappresentano il vecchio che avanza incarnano perfettamente l'ancien regime sono due facce della stessa moneta ormai fuori corso e quanto scrive in una nota per l'ennesima volta, aggiunge Fraleoni Morgera i partiti hanno dimostrato di non avere alcun rispetto per i cittadini prima il PD e i suoi alleati hanno bocciato l'ipotesi di election day proposta dal Movimento 5 Stelle in consiglio per far risparmiare 5 milioni di euro poi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno offerto l'indecoroso spettacolo della ricerca del candidato ideale per mettere d'accordo tutti dando ai cittadini la dimostrazione plastica delle loro priorità per il governo della regione se Tondo dovesse vincere ci saranno nuove elezioni al collegio uninominale di Trieste ulteriori costi, conclude Fraleoni Morgera nella sua nota pagati come sempre dai cittadini di questa regione e intanto è arrivata oggi l'ufficializzazione della candidatura di Pietro Fontanini a sindaco di Udine per tutto il centro-destra ci ha spiegato tutto il coordinatore comunale di Forza Italia Cecotti sentiamo l'intervista realizzata da Francesca Santoro Forza Italia comunale e provinciale di Udine hanno sciolto la riserva per quanto riguarda il candidato alla poltrona di sindaco è proprio così oggi abbiamo ufficializzato infatti il nostro sostegno al presidente della provincia Pietro Fontanini quale candidato sindaco unitario del centro-destra personalmente l'avevo già fatto dopo il disimpegno politico di Massimo Blasoni e quindi oggi appunto finalmente abbiamo ufficializzato ciò che i cittadini ci chiedevano da tanto tempo quindi di fatto di trovare un candidato sindaco unitario per il centro-destra per sconfiggere il centro-sinistra il 29 aprile qua in città Fontanini ha quindi le caratteristiche giuste secondo voi? Certo, una grandissima esperienza politica amministrativa e assolutamente rappresenta l'uomo giusto per combattere e per battere soprattutto la sinistra qua a Udine certo è senza ombra di dubbio evidente che una volta vinto ovviamente la squadra di governo della città terrà conto degli equilibri politici e dei voti quindi che ogni partito avrà preso Nel caso in cui a livello regionale dovesse esserci qualche ulteriore stravolgimento per quanto riguarda il centro-destra cadrà domino anche sulla vostra decisione? Pieno sostegno in ogni caso all'onorevole Fontanini La cronaca ora e ci spostiamo a Cormons dove oggi era in programma l'accoglio marathon bike uno dei partecipanti alla gara, un 42enne residente a Lucinico ha avuto un malore fatale mentre stava percorrendo l'ultimo tratto della gara di 37 chilometri sulle colline del Coglio tra Cormons e Capriva L'uomo si è sentito male, si è accasciato al suolo e a nulla è servito il tempestivo intervento del personale di soccorso che seguiva la gara Brandendo un'ascia un rumeno ha minacciato di morte un suo collega connazionale al culmine di una lite è accaduto nella notte in un'azienda agricola di Pozzuolo del Friuli in cui i due lavoravano come braccianti vediamo i particolari nel servizio Si è nascosto nella cabina di un trattore per sfuggire all'ira del collega che lo cercava armato di ascia è accaduto durante la notte negli spazi di un'azienda agricola a Pozzuolo del Friuli protagonisti due rumeni, entrambi braccianti agricoli in forza all'impresa in questione per futili motivi legati con ogni probabilità proprio al lavoro al culmine di una lite il più giovane dei due di 18 anni ha cominciato a inseguire il collega di 46 brandendo l'ascia e minacciandolo di morte al malcapitato non è rimasto altro che nascondersi nella cabina di un trattore per mettersi in salvo e cercare di chiamare aiuto con il cellulare i carabinieri della stazione di Mortegliano lo hanno trovato terrorizzato ma fortunatamente illeso nel suo nascondiglio mentre il 18enne lo stava ancora cercando sempre con l'ascia in mano il giovane è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio e l'arma è stata posta sotto sequestro E ancora cronaca nel tardo pomeriggio di ieri a Codroipo una signora di 80 anni che rientrava dal cimitero è stata derubata da uno sconosciuto in bicicletta l'uomo l'ha fatta cadere e le ha rubato la borsetta contenente il portafoglio con una sessantina di euro il banco ma te altri effetti personali tanto spavento per l'anziana signora che almeno non ha necessitato di cure mediche sull'episodio indagano i carabinieri di Codroipo i buttafuori vieta loro l'ingresso in discoteca si sfogano colpendo a calci e pugni le auto dei clienti parcheggiate fuori è successo ieri notte all'esterno di un locale a Tavagnacco protagonisti tre giovani magrebini ubriachi due sono stati fermati dalle volanti della polizia un terzo è riuscito invece a fuggire e si è svolta oggi a Fagagna la tradizionale festa di San Giuseppe promossa da Confartigianato Udine un'occasione per rendere merito a 35 realtà del territorio ma anche per tracciare un bilancio alla presenza del presidente nazionale Merletti che ha lamentato la lontananza tra il mondo della politica e quello degli artigiani vediamo 35 imprese che hanno saputo distinguersi per passione, tenace e innovazione sono state le protagoniste della festa di San Giuseppe Artigiano promossa da Confartigianato Imprese Udine il Teatro Vittoria di Fagagna ha ospitato così un esercito eterogeneo per età anagrafica e settore di produzione in quella che è stata anche l'occasione per tirare alle somme sul momento attuale la politica non sempre ci segue, non ha capito una cosa fondamentale il futuro starà nella qualità dei prodotti e non nella dimensione di imprese ecco, se capissero questo e puntassero finalmente anche e guardassero finalmente anche da questa parte forse capirebbero che le cose possono e devono cambiare certo, i numeri lo dicono noi, il mondo della micro e piccola impresa di nostro riferimento è esportato nell'anno trascorso 121 miliardi di euro con un aumento del 7,1% contribuendo significativamente al PIL l'abbiamo dovuto fare perché il mercato interno piace o non piace ma non è ancora ripartito intanto rendiamo omaggio a queste persone che con il loro impegno, con il loro lavoro hanno testimoniato la loro presenza in questa società dando risultati positivi poi, diciamo, è un momento anche in cui facciamo un po' di bilancio che è un bilancio, credo, tutto sommato positivo perché se abbiamo resistito in questi dieci anni di crisi credo che possiamo resistere altrettanti credo che la politica ultimamente in particolare quella nazionale deve stare molto più attenta ai segnali che vengono non solo dal mondo dell'artigianato ma anche dal lettore deve essere più vicina alle stanze dei cittadini deve capire che bisogna premiare chi fa chi si impegna a produrre chi si impegna a creare posti di lavoro chi si impegna a non dilapidare risorse prodotte da altri e domani mattina alle 11 e 15 sarà inaugurato il polo intermodale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari un'opera da oltre 17 milioni di euro che permetterà di integrare le varie modalità di trasporto l'aeroporto sarà collegato infatti direttamente con una passerella a una stazione dei treni ad alta velocità a una delle corriere e anche ai parcheggi vediamo ci sono voluti 30 anni di attesa e 13 mesi di lavori ma finalmente si potrà andare a prendere l'aereo comodamente seduti in treno dopo essere stato inserito nel piano regionale dei trasporti nel 1988 il polo intermodale di Ronchi è finalmente in realtà dando vita al nuovo hub del trasporto del Friuli Venezia Giulia che integra l'aerostazione con la nuova formata ferroviaria l'autostazione bus e il nuovo parking multipiano così il Trieste Airport è il primo in Italia davvero un collegamento diretto con una stazione per i treni ad alta velocità grazie a una passerella di 500 metri che permette di scavalcare la statale 14 saranno ben 70 al giorno i convogli che fermeranno la stazione Trieste Aeroporto secondo gli orari consultabili sul sito internet di Trenitalia l'autostazione conta invece 16 stalli in linea per i bus mentre il parcheggio multipiano ha una capacità di 500 posti auto a cui se ne aggiungono altri 1000 a raso il costo complessivo dell'opera che si estende su una superficie di 20.000 m2 ammonta 17.200.000 euro derivanti da fondi comunitari, regionali e di autofinanziamento della società di gestione e non è finita perché il pacchetto comprende anche una rete di piste ciclabili la cui realizzazione spetterà il comune di Ronchi dei Legionari c'è un allerta meteo della protezione civile per la giornata di domani che interessa in particolare la provincia di Trieste dalla notte fino al primo pomeriggio sulla zona saranno probabili precipitazioni moderate con neve sul carso possibile anche fino a livello del mare è probabile anche la formazione di ghiaccio al suolo soffierà a bora, forte, saranno possibili deboli nevicate anche su altre zone di pianura e costa più probabili sulle valli del Natisone verso la provincia di Venezia dal pomeriggio le precipitazioni inizieranno ad attenuarsi siamo allo sport adesso cominciamo con l'Udinese reduce da 5 sconfitte consecutive dopo altrettante vittorie adesso c'è la sosta di campionato una sosta per cercare di ritrovare la retta via perduta sentiamo il servizio di Stefano Giovampietro modo peggiore di arrivare alla sosta probabilmente non c'era e l'Udinese passa nel giro di tre mesi dall'esaltazione per le 5 vittorie consecutive ai tanti dubbi che affolano la testa del popolo bianconero dopo le 5 sconfitte consecutive una sosta che forse arriva nel momento migliore per poter cercare definitivamente di voltare pagina la sconfitta contro il Sassuolo se le altre 4 pregresse potevano essere diciamo preventivabili per il blasone forza dell'avversario non era assolutamente attesa è evidenziato ancora una volta i tanti problemi attuali della squadra bianconera incapace a proporre il gioco consueto con la giusta grinta e soprattutto l'adeguata velocità contro l'ex Iachini l'Udinese è incappata nella partita sporca che Oddo temeva non riuscendo a proporre azioni offensive degne di nota rendendo ancora una volta eclatante l'assenza di lasagna proprio quell'attaccante che è in grado di catalizzare la manovra friulana e che si spera possa fare il suo rientro nel turno prepasquale contro un'Atalanta fresca reduce da un rotondo 0-5 sul campo della Las Verona la lettura di Oddo parla di troppa foga di vincere che è stata controproducente e pensare che dopo il goffo autogol di Ali Abdrán che conferma il concetto di piovere sul bagnato il guizzo di Fofanà uno dei meno convincenti fino ad allora aveva regalato all'Udinese la possibilità di ricominciare da capo ma nella ripresa il Sassuolo è stato decisamente più lucido trascinato da un ispirato pulitano che prima è stato fermato da bizzarri e poi è mandato perfettamente a rete sensi con consigli che dall'altra parte invece ci ha fatto da spettatore non pagante perché il possesso palla bianconero non è mai sfociato in conclusioni pericolose arriva così la quinta sconfitta di fila sempre con due gol subiti sul groppone e ancora una volta con bizzarri tra i migliori dato di certo non confortante bisogna decisamente rialzarsi e metabolizzare il concetto espresso bene da Oddo e magari anche un po' malinterpretato bisogna tornare ad avvertire il senso di pericolo perché la posizione è ancora tranquilla ma dietro corrono e all'orizzonte si profilano Atalanta, Fiorentina e Lazio nel giro di una settimana Cagliari, Sassuolo stesso e Spal si sono mosse scherzale col fuoco è sempre pericoloso ma Oddo vuole che questo fuoco stimoli la squadra a tornare a muoversi e a correre per evitare finali trilling poi il rientro dalla sosta darà altre risposte e sempre per il calcio torna alla vittoria anche il Pordenone di Fabio Rossitto che in casa ritrova il ruggito Vicente con un rotondo 2-0 ai danni della fermana di destro decisiva la rete in apertura di match di Burrai raddoppio poco dopo la mezz'ora di Formiconi ottima prova del giovane portiere Mazzini preferito a Perilli e Neroverdi che con 37 punti tornano nella colonna sinistra della classifica e qui vediamo probabilmente anche il secondo gol eccolo andiamo velocemente al basket vince in rimonta la GSA che fatica per due quarti e mezzo contro Forlì ma poi sale in cattedra e manda in doppia cifra ben sei elementi alla fine si impone con il risultato di 78 a 64 consolidando il terzo posto ed è tutto per questa edizione del nostro OTG grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata su Udnews TV e buon proseguimento di serata su Udnews TV